Qualche giorno fa si è svolta una riunione per parlare del Teatro Romano, alla quale ha preso parte anche Terra Monostra. Di cosa si è parlato in particolare? Si è parlato un po' in generale dell'attività che si sta portando avanti per quanto riguarda il recupero funzionale del Teatro Romano che passa attraverso l'abbattimento di Palazzo Damole e Palazzo Salvoni. Lo voglio ripetere questo perché voglio confermare che il nostro obiettivo, il mio obiettivo, l'amministrazione comunale è l'abbattimento di questo palazzo. Tra l'altro anche l'ultima firma, la firma del Ministro, sottolinea e sottoscrive questo aspetto. Abbiamo fatto un po' una valutazione generale e abbiamo parlato dei reperti perché la sovraintendenza ha terminato lo studio, così come è previsto, dei reperti. Di questi reperti una parte sono di pertinenza del Teatro Romano e quindi verranno riposizionati in maniera ordinata all'interno del teatro. In attesa che poi ci sia il progetto definitivo esecutivo e che magari preveda l'utilizzo di questi reperti per i lavori. Questo è un discorso che toccherà il progetto. Il riposizionamento quando avverrà? Il riposizionamento avverrà entro il mese di gennaio, quindi diciamo che a febbraio più o meno il Via Paris tornerà ad essere libera. I reperti che invece non sono di pertinenza del Teatro Romano verranno portati in un'area archeologica perché comunque sono reperti da tenere custoditi. Volevo anche aggiungere una cosa che la sovraintendenza nel frattempo ha visionato, ha dato il suo parere sul bando e quindi siamo pronti anche per quanto riguarda il bando di gara per la progettazione definitiva esecutiva. Grazie.